Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 25 maggio. Ariete, il fine settimana inizia nella maniera migliore, con la luna in sagittario, che vi invita a partire per soddisfare il vostro bisogno di esplorare nuovi orizzonti. Toro, la luna nel corso del weekend sarà in grado di restituirvi ottimismo e fiducia nei vostri mezzi. Ecco perché sarete molto affascinanti agli occhi degli altri. Gemelli, iniziate a sentire aria di cambiamento grazie ad alcuni transiti decisamente positivi per voi. Marte è capace di risvegliare la passione, Venere vi rende brillanti. Cancro, sul lavoro gli impegni dovranno essere eseguiti in modo rapido e preciso e non potrete distrarvi un attimo. L'amore è comunque in crescita. Leone, Venere in gemelli, il settore che per voi rappresenta il futuro. È la giornata giusta per fare programmi a lunga scadenza, per fare anche piccole rivoluzioni. Vergine, la giornata presenta delle difficoltà perché il vostro umore non sarà dei migliori. E affrontare qualsiasi impegno diventerà molto faticoso. Bilancia, la posizione di Marte può creare ancora delle difficoltà in amore e sul lavoro. I problemi però dovete affrontarli sempre con la massima lucidità. Scorpione, la luna parla di soldi, di investimenti, di nuove occasioni per incrementare il vostro giro d'affari. Non trascurate nemmeno la vita familiare. Sagittario, la luna nel vostro segno rappresenta una ventata di sentimento ed emozioni. Sarete capaci di ottenere finalmente i risultati che inseguite da tempo. Capricorno, cercate di prendere la vita con un po' più di calma. Le prove che avete dovuto affrontare in settimana possono dirsi superate. Acquario, ci sono buone notizie in arrivo. Questa è una giornata interessantissima per chi deve affrontare una discussione. Anche in amore sarete vincenti. Pesci, la luna, in capricorno, in serata, può significare l'inizio di un nuovo rapporto sentimentale o professionale. L'importante è saper trovare un giusto compromesso. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook l'oroscopo di Azus.